E' un pari che sta stretto ma che fa ben sperare quello raccolto ieri in casa dagli uomini allenati da Angelo Vedda, che sul campo del caloggio saporito non vanno oltre l'1-1. Partita giocata a viso aperto dalle due formazioni con il giallo blu che impensieriscono per primi il portiere ospite, ma con la libertà sarà calmuto che rischia di passare in vantaggio alla mezz'ora. Tra i padroni di casa hanno fatto il loro esordio dal primo minuto l'ex esterno del di Cata, Mucalcio, Mustafà e il promettente Andrea Pinto. Dall'altra parte la libertà spoteva contare sugli esperti a Gozzino e Rinallo. La gara nel secondo tempo si è giocata nel mezzo della tromba d'aria che ha flagellato di Cata, le reti nel finale, in vantaggio alla Sant'Angelo con Fabio Buonvissuto che partito dal centrocampo batte il portiere ospite, il pareggio al 94esimo, l'arbitro prima annulla per fuorigioco ma poi torna sui propri passi, convalidando la rete ed espellendo cavalieri per proteste. Dopo tre giornate l'11 del presidente Giuseppe di Cata si ritrova con appena due punti in classifiche domenica in seriosa trasferta a Casteltervili.